A proposito delle lezioni che ho presentato su D'Annunzio, mi è stato chiesto, in sintonia da diversi amici che mi seguono, di chiarire la differenza che c'è tra un D'Annunzio esteta e un D'Annunzio superuomo, ma poi mi è stato richiesto, la cosa è piuttosto impegnativa, in che cosa consiste la differenza tra oltre uomo e superuomo, termini predicati alla filosofia di Nice. Premetto che su Nice io, in briciole della filosofia, ho già costruito una lezione, dove si può anche scaricare del materiale cartaceo. Ora, qui mi si chiede di chiarire delle parole, di riflettere su determinati argomenti che, secondo me, sono difficilissimi da definire. A proposito di chi mi ha chiesto anche delle lezioni di storia, ecco, qui vengono implicate anche delle situazioni storiche. Per dare una risposta a dei quesiti di questo genere bisogna intrecciare la poetica del D'Annunzio con la filosofia di Nice, con i fatti storici di quel momento e trovare rapporti di causa-effetto. Ecco che una riflessione di questo genere è piuttosto difficile e l'impostazione su questi argomenti non sempre viene affrontata con quell'ampiezza di vedute che dovrebbe a un certo punto coinvolgere il tutto. Il fatto è che per affrontarlo in questo modo di nuovo la registrazione diventa lunga e oggi le lungaggini, tra virgolette lungaggini, non vengono accolte con piacere. Si vuole già subito la risposta della risposta. Cominciamo direi con l'argomento più semplice, cioè che differenza passa tra l'estetismo e il superomismo di D'Annunzio. Il superomismo di D'Annunzio non esclude l'estetismo ma lo congloba. Quando D'Annunzio passa attraverso il romanzo che è l'esposizione più completa della sua prospettiva estetica, il piacere con protagonista Sperelli, troviamo dei personaggi che vogliono vivere pienamente il senso estetico. Così sarà anche per l'innocente, ma come si vede tutti questi personaggi ne escono sconfitti perché si trovano di fronte ad una realtà, ad una società che non riesce ad essere sensibile all'esteta. È una società che vive di interessi, di economia, è una società borghese. È insomma la costante che troviamo lungo tutta l'esperienza decadente, ossia l'artista, il poeta, che si sente escluso da una particolare società perché la sua sensibilità, i suoi sentimenti, tutto il suo essere non riesce a entrare in sintonia con gli interessi egoistici ed economici e puramente riservati al denaro quali si è imposto alla società borghese. Quindi Sperelli esce sconfitto dalla sua esperienza che vuole essere tutta un'esperienza di cuore, di sensi, di umanità. Episcopo ne esce umiliato, offeso e una estrema degradazione. L'innocente, dove si spera una rigenerazione e una purezza, alla fine arriva ad un omicidio, ad un infanticidio. Quindi D'Annunzio ritiene che si debba a un certo punto percorrere un'altra strada. Non si deve più rifiutare un certo tipo di società, ma immergersi in questa società e con il trionfo della morte e con il nuovo protagonista Aurrisp si vuole accogliere questa novità, imporsi su questa novità, diventare l'arbitro di questa situazione. E allora ecco che D'Annunzio si confessa discepolo in un certo senso di Nice. Bisogna realizzare quindi quella potenzialità che è ogni essere superiore anche quindi dell'esteta e imporsi sugli altri. Così abbiamo questa impostazione nelle Vergine delle Rocce con il protagonista Cantelmo, che vuole diventare re di Roma, deve, se non può farlo lui, dovrà generare il re di Roma. Ma cosa succede? Succede che anche in questi personaggi noi troviamo il fallimento. Nel trionfo della morte, Aurrispa, proprio perché si sente soffocare da una particolare situazione familiare, sarà l'argomento poi principe di Pirandello, arriva il suicidio. Nelle Vergine delle Rocce con Cantelmo, che si rende conto che non ci sono le condizioni per diventare re di Roma e per imporsi, l'azione viene rimandata. Sarà suo figlio. Ma come potrà generare un figlio? Ecco allora questo protagonista che si butta in una condizione di putredile, di morte, di decadenza, di malattia, di follia, e trova e cerca una donna in una dobbiltà decaduta e ormai fuori senno. Ma anche lì rimane perplesso e non sa scegliere tra le tre donne che lì si trovano davanti. Quindi, di nuovo, anche nella Vergine delle Rocce, l'azione del superuomo viene stroncata. Insomma, dal dire al fare ci sta di mezzo il mare. Il superuomo dannunziano vorrebbe, ma le condizioni non gli permettono. Forse qualcosa sembra che si possa realizzare col fuoco, l'altro romanzo, ma anche qui abbiamo una velleità piuttosto nebulosa, e si evidenziano sempre in queste opere dove il personaggio esteta, rimane esteta, dovrebbe, quindi al di là del bene e del male, al di là di ogni regola stabilita in una prospettiva tutta pagana, vorrebbe, dovrebbe realizzarsi, alla fine non si realizza. Allora, differenza sostanziale, quindi, tra l'esteta d'annunzio e il superuomo d'annunzio, è che nel superuomo d'annunzio l'artista non si isola più, ma si butta totalmente nella mischia. però nella mischia non ne esce, non ne esce vittorioso, ma per lo più ne esce sconfitto. Passiamo all'altro termine, perché quando noi parliamo di superuomo d'annunzio, ci richiama a questo superuomo d'annunzio tutta la filosofia di Nietzsche. E allora c'è qualcuno che dice ma guarda che l'annunzio segue la teoria del superuomo, ma Nietzsche non c'è il superuomo, c'è l'oltreuomo. e lì ci si perde in distinzione a spaccare il capello in quattro. Questo iperantropos in greco superuomo ci si potrebbe semplicemente fermare a una distinzione teorica e dire guarda che con superuomo si intende così, oltre l'uomo si intende cosà. Ma non è possibile se si vuole valutare attentamente la situazione storica del momento e il pensiero del momento non ci si può fermare solamente a queste distinzioni. Oggi ci fermiamo spesso solamente a delle distinzioni apparenti perché non andiamo a fondo delle questioni e rimaniamo sola sulla crosta. Allora, partiamo col dire. Il superuomo di d'annunzio è l'uomo che si impone sugli altri a discapito degli altri. Non necessariamente, però se è necessario gli altri non contano più niente. È un individualismo assoluto. L'oltreuomo invece di Nietzsche è l'uomo che va oltre le sue determinazioni spaziali, temporali, storiche per realizzare pienamente a se stesso e non vuole assolutamente imporsi su nessuno. Non è il duce, non è la guida così almeno non si presenta nell'opera di Nietzsche. Io sono convinto che Nietzsche nel suo cuore la intendesse così perché il suo spirito probabilmente è uno spirito sensibilissimo. faccio notare una cosa molto spesso si liquida Nietzsche in questo modo un pazzoide che poi ha finito la sua vita così nella prima manifestazione nevrotica abbracciando un cavallo. No, anche lì è vedere le cose in maniera superficiale. Capita a Torino Nietzsche poi non si sa bene se abbia abbracciato un cavallo però dà in escandescenza perché dà in escandescenza? Perché di fronte a un carrettiere che massacra a botte un animale reagisce di qui si vede una sensibilità particolare di Nietzsche che di fronte a un animale a un animale non un essere umano ma addirittura un animale reagisce e i suoi nervi cedono. Quindi probabilmente è vero nella intenzione di Nietzsche non c'era il superunismo e tantomeno una visione pangermanica non c'era assolutamente il nazismo però le premesse del pensiero di Nietzsche attenzione che questo è l'importante perché noi non valutiamo i rapporti di causa-effetto prima che sono fondamentali e in questo modo si fa storia e poi non valutiamo gli effetti di queste azioni a breve e a lungo termine ma in modo particolare gli effetti a lungo termine che la storia ci testimonia vedete siamo in periodo decadente si è persa la fiducia in Dio nella ragione nella scienza la religione insomma specialmente il cristianesimo si è dimostrata specialmente con le sue divisioni con i suoi interessi mondani non all'altezza della situazione la ragione illuminista arrivò a delle conseguenze disastrose con la rivoluzione francese la scienza vede che avrebbe dovuto risolvere tutto vede il proliferarsi di armi micidiali che vengono utilizzate per la prima volta nella guerra di secessione statunitense per cui ma poi si aggiunge ho già detto prima la scollatura tra l'intellettuale ed una società borghese che vive solo seguendo l'interesse quindi si cerca un'altra identità Pascoli la cerca in una particolare prospettiva i crepuscolari in un'altra ma poi c'è tutta una un macinare di violenza perché poi di violenza si tratta che passa dal marxismo a sorella a niccia ad annunzio e che poi sarà la miccia che farà scoppiare la prima guerra mondiale e ad effetto ritardato la seconda attenzione io non mi sognano mai di dire che Nietzsche se non ci fosse stato Nietzsche non ci sarebbe stato neppure il nazismo il nazismo ci sarebbe stato comunque il fascismo ci sarebbe stato comunque però nazismo fascismo ma in modo particolare nazismo ma anche fascismo perché fascismo ebbe una particolare attenzione per Nietzsche e anche per Sorel anche se su dimensioni differenti ma c'è sempre la dimensione della violenza queste dottrine spesso violente vedono una propria giustificazione nella filosofia di Nietzsche e anche oggi capita così quando si propongono delle grandi corbellerie e si è giustificati dall'autorità di un insegnante universitario di un pensatore di un matematico allora ci si sente giustificati quante volte io ho letto uno di freddi matematico filosofo valice sulla Bibbia delle corbellerie che non sa assolutamente fare nessuna analisi testuale non sa niente in realtà di filosofia o di teologia quando mi si parla di un viglino che perché conosce l'ebraico dovrebbe avere la chiave di lettura della Bibbia ma non basta conoscere l'ebraico anche io conosco il latino ma se non so affrontare un'esegesi attenta con delle riflessioni storiche teologiche filosofiche potrei dire solo delle grosse corbellerie eppure ci si sente giustificati allora io dico le corbellerie più grosse ho alle spalle un uomo di cultura che mi giustifica e così avvenne per il nazismo e così avvenne per il fascismo le espressioni totalitarie di quegli anni videro in Nice il proprio ispiratore ma questo perché se in fondo Nice alcuni sostengono non ha mai sostenuto la teoria del superuomo ma semmai la teoria dell'oltreuomo ma ancora oggi abbiamo dei teologi cristiani che stanno rivalutando Nice allora premessa Nice ne ha dette talmente tante che se noi isoliamo dei passi ognuno può prendere Nice a proprio uso e consumo nel così parlo Zaratustra non abbiamo una sistematica esposizione del suo pensiero perciò certe teorie vengono facilmente viste e riviste e utilizzate su obiettivi differenti insomma per realizzare l'oltreuomo Nice innanzitutto respinge a priori tutti i valori etici tradizionali respinge il cristianesimo e ritiene i cristiani degli ipocriti afferma che il male è la migliore energia dell'uomo e che in questa prospettiva lui ha ucciso Dio Dio è morto definitivamente allora queste affermazioni sono vere ma ci sono delle intuizioni che non sono mica sbagliate l'ipocrisia dei cristiani e chi la mette in dubbio il cristiano che in nome della debolezza in nome beati i poveri beati i miti eccetera vuole giustificare sempre tutto quello che arriva dai poveri o dai presunti miti il cristiano che perdona ma che spera in fondo in una vendetta in un altro mondo di coloro che gli arrecano danno offesa il cristiano che propone certi valori ma poi non li segue però anche a questo proposito Nietzsche dimostra di essere uno storico a metà perché tu analizzi nella storia solamente un certo aspetto del cristianesimo quel cristianesimo che è finito sui libri di storia quel cristianesimo che ha ispirato alleanze guerre scontri vari oppure quel cristianesimo che si è ridotto a scontri verbali o speculativi ma tu ignori tutto quello che il cristianesimo ha compiuto nei millenni di bene a servizio dei più poveri a servizio degli ammalati a servizio dei vecchi a servizio degli indigenti tu stai decapitando la storia un'altra intuizione il male è la migliore energia dell'uomo caspita per fare il male in questo mondo se voi valutate c'è un'energia incredibile per fare il bene sembra che gli esseri umani non abbiano energia pensate solo al denaro come lo utilizziamo le nostre azioni quotidiane ma anche qui mettiamo a tacere nell'ombra tutto il bene che quotidianamente da persone sconosciute viene condotto viene portato avanti nel silenzio e anche la stessa chiesa le varie chiese spesso e volentieri mettono in evidenza gli grandi eventi si sono riuniti in milioni centinaia di migliaia e passano sotto silenzio l'opera di chi lavora seriamente e fa della propria vita una vita cristiana è un po' come nella scuola ne abbiamo appena parlato nella didattica chi è che ha successo? beh hanno successo gli insegnanti che fanno i progetti l'insegnante che quotidianamente insegna agli alunni quello che devono conoscere per avere delle basi per poter andare avanti passano sotto silenzio la loro opera non viene conosciuta viene proposta alla televisione diecimila volte la donna che uccide il figlio ma tutte le madri che quotidianamente allevano i propri figli passano nel totale silenzio quindi è una prospettiva ecco perché dico qualcuno mi dice fai storia ma come faccio fare storia e affrontare delle riflessioni filosofiche in due minuti questa posizione dell'oltreuomo di Nietzsche è fortemente individualista e alimenta una azione nella storia e la giustifica che è terribile e qual è questa azione? è l'azione dei nazionalisti pensate queste teste di legno che cosa hanno compiuto che cosa è avvenuto durante la prima guerra mondiale e si ispiravano alla nazione e si ispiravano all'individuo e si ispiravano alla grandezza al super uomo e di mezzo c'è d'annunzio i nazionalisti alla vigilia della prima guerra mondiale era un numero sparuto di persone i tre grandi partiti che rappresentavano le tre maggiore anime del popolo italiano cioè i giulitiani socialisti e cattolici erano contro la guerra il parlamento era contro la guerra chi era per la guerra? i soliti Savoia il governo la monarchia e cosa avviene la prima guerra mondiale che l'Italia commette un'azione riprovevole cioè rinnega un'alleanza triplice che aveva con l'Austria e con la Germania e noi abbiamo celebrato vi ricordo ancora da bambino si celebrava a novembre all'inizio di novembre la vittoria ma vittoria dopo che l'Italia tradisce un patto di alleanza e l'Italia spinta dai nazionalisti partecipa ad una guerra terribile certo dall'alto del cielo buttava i volantini e vedeva nel basso la povera gente i milioni di soldati gettati come carne di macello nelle trincee ringraziamo Cadorna ringraziamo Capello ringraziamo Diaz e abbiamo ancora oggi delle strade delle piazze a nome di Cadorna Capello e Diaz Cadorna senatore politico aristocratico macellaio sono le conseguenze di un atteggiamento superomista dove la massa viene sacrificata a chi? a questi piccoli come possiamo dire? a queste nullità viene sacrificata al re viene sacrificata a questi generali e poi cantiamo il piave mormorava ma ci rendiamo conto i giovani che vengono chiamati alle armi senza aver compiuto neanche i 18 anni la carde che viene macellata la gravità di questo fatto che si estende anche alla religione perché cristiani non solo cristiani contro cristiani ma cattolici contro cattolici austriaci contro italiani dove il 99% allora erano cattolici una vergogna anche per la chiesa che non prese sufficiente posizione non basta dire terminiamo mettiamo a freno a queste inutile strage la chiesa cattolica forse doveva prendere posizione ma temeva una reazione da parte dei governi vedete che cosa coinvolge una riflessione sul super uomo quel super uomo oltre uomo che dice ma io per realizzarmi devo essere me stesso devo dare aperto sfogo alle mie passioni devo essere io allora è evidente che se ragiona così un uomo come San Francesco la sua realizzazione è realizzazione di povertà di sofferenza di amore ma se un ragionamento di questo genere viene adottato da un guerra fondaio c'è la guerra e l'azione l'opera di pochi perché le teste di legno ripeto sono quelle che fanno un maggior fracasso quest'opera riesce a trascinare le masse in un macello questo a livello storico a livello di popolo ma per seguire il pensiero di Nietzsche che molti dicono ma guarda che solo oltre uomo non è super uomo anche nei rapporti personali si arriva al disastro si arriva ad un'azione egoistica io ho avuto un alunno che purtroppo adesso sarà già cinquantenne e che nel giro di pochi anni è finito sulla sedia a rotelle cosa fa la moglie? prende e se ne va perché dice ma io non mi posso realizzare non posso stare tutta la vita a servizio di un uomo che si trova su una sedia a rotelle io me ne vado io ho la mia vita e questo atteggiamento è il pensiero di Nietzsche non c'è servizio non c'è amore io mi realizzo mi devo realizzare devo seguire un'altra strada la mia strada non è quella di stare dietro un uomo sulla sedia a rotelle e quando sentivo la televisione un sessantenne che si era innamorato di una ventenne e aveva abbandonato figli e moglie ma io devo realizzare io vivo nella gioia io sono felice per me c'è una nuova vita sì ho accorto ma tu hai giurato amore ad un'altra donna vedete nel momento in cui ecco allora ritorniamo a Nietzsche nel momento in cui Nietzsche dice niente più Socrate niente più Platone niente più Cristianesimo niente più il dover essere di Kant io non devo più affermare io devo io devo affermare io voglio nel momento in cui ci si pone una posizione amorale assoluta si finisce nella immoralità l'uomo non può stare senza valori eterni non può stare senza dei principi che li coinvolgono non può seguire esclusivamente le sue passioni perché crollano i rapporti personali interpersonali e anche in una prospettiva sociale tra popoli nazionale e internazionale ognuno pensa alla propria tasca ma guardate che questo pensiero di Nietzsche è ormai entrato nel midollo della nostra società dove anche se in apparenza non è così a caparenza ci vogliamo tutti bene ecumenismo tanti sorrisi e fratelli e compagni e camerati eccetera ma in realtà detto il nostro cuore cova l'individualismo io 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 gli altri è la lezione di Nietzsche quindi fare delle distinzioni puramente nominali super uomo oltre uomo sono sono chiacchiere inutili sono gli incontri che si fanno oggi alla televisione dove si parla sul niente sull'astratto in pratica l'oltre uomo porta al super uomo dannunziano e nazista non necessariamente per tutti ma chi pulsa in quella direzione viene giustificato la mia passione è quella di stuprare le donne me le devo stuprare cinque all'anno questa è la mia io mi realizzo così non posso essere limitato da un dover essere antiano che mi dice no non puoi è proibito non posso essere limitato dai dieci comandamenti di Mosè io pulso in quella direzione per realizzarmi devo fare così e così devo fare se sono pedofilo perché queste sono le mie pulsazioni Nietzsche porta a questo poi magari quest'uomo non pensava che fosse così esplosivo il suo messaggio che poi è un messaggio pieno di speranza perché la visione di Nietzsche è una visione senza fiducia perché ci sono gli eterni ritorni no così parlo Zaratustra gli eterni ritorni che senso ha ancora la storia se ci sono gli eterni ritorni ma che senso ha anche quel io voglio che io voglio che non voglio insomma i ritorni saranno sempre quelli c'è una ripetizione all'infinito e a questo punto si adotta il non senso della vita il non senso di tutto e il non senso in cui molto spesso noi viviamo nella nostra società moderna siamo figli di quel super uomo oltre uomo su cui noi tanto disquisiamo oltre uomo oltre uomo